Da un po' di tempo ero lontano dai campi di calcio e calpestare l'erba del Tardini mi crea veramente un'emozione incredibile e mi ravviva i ricordi di un passato non tanto lontano che ci ha riempito di gioia ci ha riempito di di allegria ci ha riempito anche di di grandi soddisfazioni se sono tornato è perché questa squadra la porta nel cuore per le vicende societarie di cui tutti siamo conoscenza purtroppo siamo costretti a partire dai dilettanti ma questo non è il posto nostro stiamo lavorando e stiamo cercando di costruire una squadra forte importante abbiamo bisogno per questo di avere lo stadio colmo che ci aiuti a raggiungere certi obiettivi vogliamo tornare a vincere ma lo vogliamo fare a modo nostro senza veleni facendo un calcio che faccia divertire la gente il parma come è stato scritto non è finito il parma non morirà mai noi siamo parma